I cellulari sono diventati essenziali nelle nostre vite. C'è un'app per tutto. Ma se un'app potesse dire quanto tempo ti resta... A me mancano 63 anni. A me 57 anni. Prima di morire, vorresti saperlo? Cosa? Due giorni. Quell'app è solo un fake. Mi sembra ovvio. Lo diceva anche la mia ragazza. L'app diceva che stava per morire. Mia sorella l'ha scaricata anche lei. Quello che dobbiamo fare è battere il tempo di un solo secondo. E se non funzionasse? Allora aprivesti la porta a qualcosa di peggiore della morte. Vieni con me. O porti al destino, scatenerà una reazione a catena. Matt, svegliati presto. Ehi, mi hai chiamato? Ehi, mi hai chiamato? Grazie.